Dimmi di cos'è che ti ha da fare, divide parecchie e ne sa ci niente. Protagonista di un concerto evento nella sua terra d'Abruzzo, Setac salirà sul palco del Teatro Massimo di Pescara il 1 dicembre alle 21.30. Le radici vestine, l'artista infatti originario di penne, hanno accompagnato i suoi sordi fino a renderlo oggi uno dei cantautori più interessanti del panorama nazionale. Reduce dalla partecipazione alla rassegna della canzone d'autore Premio Tenco 2021 il 1 dicembre, ospite speciale Mimmo Locasciulli, Setac sarà accompagnato dalla sua band capace di esprimere una meravigliosa sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi di tutto il mondo. Setac proporrà i brani dei suoi due album Alestale e Bluesanza, ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza. Devo dire che questo per me è un evento speciale perché a parte che sto ricevendo un'accoglienza che mi commuove veramente sono... E poi il Teatro Massimo per me era proprio un obiettivo della vita, cioè lo sognavo da sempre, l'ho sempre vissuto da spettatore ed è un posto magico. Stiamo preparando uno spettacolo ad hoc e non vedo l'ora di... insomma, credo che verrà il primo. Non posso immaginare un futuro senza le radici, è molto semplice e quindi tutto quello che farò sarà sempre condizionato da questo. Le radici sono la cosa più importante che abbiamo e purtroppo, sai, non è facile apprezzare questa cosa e capirla. Io per capirla sono dovuto scappare, ho dovuto anche odiarle, però spesso, come succede nella maggior parte dei casi, quando ti allontani da una cosa la capisci meglio.